Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovissimo video glitch Oggi raga siamo qua in un video molto molto particolare Perché raga non vi farò vedere né uno né due ma ben tre glitch in una volta sola Per prima cosa ragazzi entrate in creativa Andate qui dove dovete mettere una mappa raga e mettete questa isola qui Vi lascerò raga il codice qua sopra Una volta entrati ragazzi possiamo tranquillamente avviare la partita E ora inizia il bello Ebbene sì ragazzi come prima cosa dirigiamoci verso il respawn di sinistra E andiamo verso questa pedana qui Ok ragazzi verso questa pedana qua Andiamo a posizionare una cupola sopra Piano piano raga dirigiamoci all'interno E magicamente raga siamo in un mondo di uova Va bene Andiamo a trovare l'uovo con il pesce Che è questo qui Questo qui raga Tra l'uovo del pesce e quello viola ragazzi dovrebbe essere un pulsantino Eccolo qua Interagisci E ragazzi avremo l'esperienza gratuita Sembra poca raga ma tutto fa brodo Dopodiché ragazzi andiamo qui in quest'altro E raga come potete notare Da quest'altra parte Prendiamo bene la mira Quindi prendiamo bene la mira Andiamo tutto dritto E guardate un po' Boom Siamo in una discesa galattica Verso una conchiglia Raga va bene Andiamo quindi Let's go Un bel saltino Siamo dentro E in uno dei denti In una delle curve della mochiglia Raga troviamo Interagisci Andiamo a interagire E quindi avremo tantissima esperienza In più Guardate un po' Quanta raga Quasi mille di esperienza alla volta Anzi direi mille di esperienza alla volta Mamma mia raga E siamo a livello 94 raga Eccoci qua a livello 94 Un altro glitch raga E praticamente è questo qua Noi bisogna andare esattamente In questa parte qui Dove c'è questo Questo jump pad Questo qui Creiamo tantissima Dico tantissime Piattaforme Fino a quando non incontriamo Il nostro carissimo Gianessi Lo state vedendo ragazzi In lontananza Il nostro Gianessi Che ci chiede aiuto Eccolo lì ragazzi Stiamo arrivando Gianessi Stiamo arrivando Eccoci Oh vai Perfetto Andiamo qua Prima Interact Un'altra volta Quindi interact E ci troviamo in questa stanza Dove c'è uno Che ci vuole ammazzare No scherzo raga Proviamo interact Pure qua E ancora tantissima Esperienza in più Per noi raga Guardate quanto avanza Avanza di poco raga Ma avanza senza fermarsi E questo è il bello E questo è il bello raga E ragazzi Giusto perché Lasciate sempre Tanti like Quindi raga Mi raccomando Lasciatelo anche questa volta Un bel pollicione in su Arriviamo a 50 like Per un prossimo episodio Vi farò vedere Il quarto glitch Sempre in questa mappa Rientriamo su Rift Respawn E dirigiamoci raga Verso questi due Flussi Ok Dove ci danno Gli equipaggiamenti Bisogna entrare Tra quello Epico E quello Raro Quindi raga Piano piano Andiamo E Tac Piscina Olimpionica Un bel saltino Dirigiamoci verso Il fondo Secret room XP Eccoci qua ragazzi Questo qui raga È il massimo Che potete guadagnare Guardate un po' raga È veramente Tanta tanta roba Ci siamo già fatti Un quarto di livello In esattamente Quanto Tre minuti di video Quindi L'unico Se dovete fare Ragazzi È lasciare Il vostro computer O la vostra console Accesa Mentre utilizzate Questo glitch Nel frattempo Raga Vi lascio Magari Qualche video Da guardarvi Mentre la lasciate Accesa E prima raga Di fare tutto ciò Ricordatevi di andare qui E di scrivere Ragazzi Il mio codice Supporta Ancratore Eccolo qua Premete Accetta E Let's go Grazie mille A tutti coloro Che mi supporteranno Detto questo ragazzi Per questo video è tutto Noi ci becchiamo In una prossima live O in un prossimo video glitch O magari in un prossimo video Qualsiasi Mi raccomando Iscriviti raga Vi vedo La maggior parte di voi Non è iscritta Quindi raga Iscrivetevi Dai raga Arriviamo a questi 16.000 iscritti Bene ragazzi Da te 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 dom è tutto Noi ci becchiamo Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie.